Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. www.fondazione.it Questo spazio è messo in cantiere, dovrebbe essere la seconda puntata della collezione privata Zanei. Nella prima parte della nostra trasmissione siamo in compagnia della Presidente del Teatro La Contrada, Livia Mabilino, che è tornata a trovarci e che ringrazio. Nel giorno in cui, questo specifichiamolo anche per chi ci vedesse in replica, nel giorno in cui anche La Contrada riapre. Riapre, riapriamo i battenti con grande felicità. Oggi alle 18, naturalmente non poteva che essere a Riella Reggio a riaprire, perché naturalmente la fondatrice è la nostra prima attrice, e quindi la mia vecchia signora, The Old Lady di Israel Horowitz, in questo appuntamento di appunto una lettura scenica che noi facciamo oggi con grande gioia, poter aprire al pubblico e riaccogliere in sicurezza naturalmente, come tutti i teatri d'Italia, della nostra regione in particolare, quindi con la massima sicurezza ai nostri spettatori. Che cosa significa ripartire? Probabilmente, adesso tocchiamo tutto quello che abbiamo a disposizione, probabilmente in maniera quasi definitiva, perché la pandemia sta andando come sta andando, ci sono le vaccinazioni, quindi probabilmente si può davvero voltare pagina. Mettiamola così, che cosa significa rispetto a ottobre scorso? Allora, rispetto a ottobre scorso, la chiusura di ottobre scorso è stata per noi terribilmente scioccante, perché ha interrotto proprio nel mezzo dell'attività appena ripresa, quindi è veramente stato un momento di grande turbamento per noi e quindi ci abbiamo messo anche del tempo psicologicamente a riprenderci, devo dire la verità. Adesso con i vaccini noi ci sentiamo molto più sicuri, quindi i nostri collaboratori, quelli che potevano, si sono vaccinati, noi speriamo anche moltissimi i nostri spettatori e questo andamento, diciamo, e speriamo ancora accelerazione su questo aspetto della nostra vita sociale e pubblica, ci garantirà per una sicurezza ancora ulteriore a quella che noi sappiamo che i teatri e i cinema sono luoghi sicuri, però naturalmente le vaccinazioni ci danno una sicurezza in più. E quindi partiamo con coraggio e con fiducia, noi abbiamo una ripartenza in qualche modo light, perché abbiamo preferito, diciamo, cominciare con tre appuntamenti di teatro a Leggio, più abbiamo aperto le domeniche mattina i bambini, nuovamente le famiglie attendevano con tanto entusiasmo di riportare i bambini, anche in questa stagione anomala, perché normalmente le domeniche mattina finivano prima, finivano in aprile, invece abbiamo visto, questa è un'altra novità interessante di questo periodo, di quello che sta cambiando, che gli spettatori vengono anche in periodi diversi, anche in primavera, anche a inizio estate, possono frequentare i nostri teatri con le scelte giuste, con gli spettacoli giusti. Noi abbiamo anche preferito in qualche modo l'attività all'aperto, quindi faremo, saremo presenti, sì, non solo a Trieste, ma anche fuori, quindi faremo delle piccole tournée, e poi naturalmente abbiamo cominciato altri progetti che sono sul territorio, in particolare le residenze artistiche che insieme a altri due teatri della regione che si occupano di questo aspetto abbiamo presentato. Poi parliamo delle residenze, è una cosa che a me interessa molto. Volevo chiedere, immagino che voi abbiate avuto forse più degli altri teatri, anche per il vostro ruolo, anche per il luogo dove sta il teatro Bobbio. Immagino che avete avuto più contatti con il pubblico, nel senso con la gente, anche probabilmente, diciamo la verità, anche con la gente che magari stando dalle parti di via Ghirlandaio, magari per tutta una serie di ragioni del teatro, magari mai non va, però sa che ci sono, che tipo di… Noi non abbiamo mai chiuso intanto, nel senso a parte il lockdown quello originario, quindi non abbiamo mai chiuso completamente la biglietteria, naturalmente i nostri uffici, e quindi in qualche modo è vero questo che dici, cioè il fatto che la gente passava e chiedeva, si informava, si lamentava, oppure veniva con curiosità, ma severti, ma già voglio dire, e quindi noi abbiamo questo contatto molto diretto con le persone, naturalmente siamo un punto di riferimento anche orgogliosamente del nostro quartiere, oltre che della città, e quindi questa familiarità che noi abbiamo con le persone, in effetti abbiamo cercato di mantenere aperto per mantenere un contatto, oltre naturalmente alle attività online che hanno fatto tutti i teatri, anche noi abbiamo con continuità fatto. Fra l'altro anche, diciamo in qualche modo scoprendo un mezzo nuovo, abbiamo cominciato questa mappatura delle associazioni culturali della città, di personaggi particolari, e quindi abbiamo anche mantenuto dei contatti, e ripreso dei contatti con persone, personaggi, associazioni, con le quali forse era un po' di tempo che non entravamo più in contatto, quindi è stato un bel modo di passare questi mesi difficili. Fra l'altro è anche vero che poi dopo ogni teatro ha deciso, come meglio credeva poi, di ritornare, di riaffacciarsi, eccetera. L'altro, come era? Ieri se non mi sbaglio, sì sì sì, ieri siamo andati al teatro sloveno, certo, quindi insomma è bello anche questo, no? Cioè che… Beh, i nostri colleghi sloveni poi hanno tanto, anche noi abbiamo provato spettacoli che poi i nostri spettatori vedranno nel corso dell'autunno al teatro sloveno, che sono i nostri ottimi amici vicini di casa, hanno provato in tutti questi mesi degli spettacoli che adesso verranno a presentare, quindi anche loro ricominciano l'attività in questo modo. C'è molta solidarietà fra di noi, devo dire la verità. Questo si percepisce. Sì. Questo si percepisce. E volevo chiedere, di solito lo faccio alla fine, ma già che ci siamo perché ne abbiamo parlato, che cosa ti… qual è il… se tu dovessi fotografare con un'immagine questo periodo di lockdown, diciamo questi 15 mesi, che cosa ti rimane di… Allora ti darò due immagini, una è un'immagine personale, un giorno sono uscita sul balcone durante il lockdown, ho visto un cielo di un colore che non vedrò penso mai più nella mia vita e questo mi ha fatto una grandissima emozione in un silenzio irreale e quella è un'immagine che penso non dimenticherò mai e poi naturalmente il teatro vuoto, il teatro silenzioso, la mancanza di spettatori e questo per noi è una ferita. Noi abbiamo cercato di aprire i nostri spazi ai giovani gratuitamente, anzi dandogli un supporto in piccola parte economico, ma soprattutto tecnico, organizzativo. Tra l'altro siamo molto orgogliosi, perché non lo diciamo ancora perché non è ufficiale, ma uno di questi gruppi che abbiamo ospitato ha ricevuto un premio, un riconoscimento e quindi noi ci sentiamo come dire papà e mamma di attori e gruppi collettivi che stanno funzionando, che stanno andando avanti, che ricevono premi, siamo molto contenti di questo. Allora, parliamo delle residenze. Sì. Che a me, poi la cosa, questa è una roba curiosa, perché io sono, lo dico, forse qualcuno se ne ha anche accorto, ma insomma, io sono molto conservatore nel, nel, in genere, nelle cose che mi piacciono, infatti vengo sovente preso, preso in giro, specialmente da Calabrese. Nostro grande amico che salutiamo. Sì, però Calabrese deve stare un po' tranquillo, perché abbiamo, sono entrato in possesso di alcuni documenti che potrei anche utilizzare in maniera, diciamo così, vabbè. Però, diciamo, io sono per le cose classiche, insomma. Però trovo che le realtà e iniziative come quelle delle residenze siano belle, siano… Non parlo un branco dei matti, per dire verità. Non è un branco dei matti, ma… Però danno anche moltissimo alle strutture che si occupano di queste cose, cioè chi appunto apre le porte a questi artisti. Il nostro progetto quest'anno è un anno ponte, dopo tre anni di UFO col progetto artistico di Marcella Serli. Quest'anno è un anno ponte, perché noi abbiamo deciso di riflettere. Non si poteva fare a meno di, come dire, comprendere e in qualche modo chiedere ai nostri artisti una riflessione su quello che è stato. Non ci sembrava normale far finta che non fosse successo nulla. E quindi abbiamo dato in qualche modo una tematica più precisa a queste nostre residenze, che si intitolano vettori. I vettori sono un concetto di fisica, dove c'è un ente, dove c'è una direzione, dove c'è un verso. Proprio perché gli artisti ci devono aiutare, con la loro riflessione, con la loro sensibilità, a comprendere questo reale, questo nostro futuro, quello che sarà, e che noi ancora non siamo capaci, forse, di vedere così distintamente. Quindi è un modo per stimolare una ricerca su questo futuro. L'altro aspetto particolare di quest'anno è che le residenze sono tutte molto diverse, appartenenti a settori diversi, quindi teatro, teatro danza, e in particolare anche arte contemporanea. Siamo riusciti a catturare due artisti visivi. Non posso dire, adesso sono Aldo Giannotti, Pablo Chireguin, che veramente abbiamo, anche l'aiuto di Trieste Contemporanea, abbiamo preso con noi, questa è un po' la novità, che vedremo fare delle cose originali. Poi ci sono due gruppi molto giovani, che appunto anche questi vogliamo dare la possibilità di crescere, e poi insomma non scopriamo tutto, ecco. Comunque comincia in giugno, diciamo, le residenze, vedranno a metà giugno la prima restituzione, e il Trio Zaba, sono tre meravigliose danzatrici che sono cresciute con Ararea, che è la vera gruppo di danza riconosciuto dal Ministero dei Frui di Venezia Giulia, che hanno messo insieme questo collettivo che si chiama Trio Zaba, e che hanno un argomento molto particolare, devo dire. Queste tre danzatrici, il loro titolo della loro ricerca si chiama Marea, ed è una riflessione sulle mestruazioni, cioè quindi una, in qualche modo un cambio di, per anni è stato un tabù, per anni è stato un tabù delle donne, bisognava nascondersi, poi c'è una serie di leggende, anche naturalmente in tanti paesi del mondo, cioè io mi ricordo da ragazza, tu toccavi, c'erano quelli che dicevano che toccavi la pianta e moriva, oppure che non potevi fare la doccia, cose veramente incredibili, e quindi faremo tutta una serie di iniziative collaterali, tra i quali anche degli incontri su questi aspetti, sul femminile diciamo. E invece il secondo, quindi qui si intende un cambio diverso, l'abbiamo visto in questi ultimi due anni tantissimo, come dire, questo argomento del femminile, e invece il secondo dei gruppi giovani che ci verranno a trovare, che si chiama Fuga Geografica, Fuga Geografica, Fuga Geografica, sono usciti da scuola, non di danza, ma di teatro del Friuli Venezia Giulia, cioè la Nico Peppe, e loro prendendo a spunto un testo di Marivaux, anche questo è connesso con la nostra pandemia, perché è la storia di due coppie di gemelli, che vengono artificiosamente tenuti al di fuori di ogni contatto umano, e poi vengono messi a contatto, naturalmente la metafora è quella che noi siamo rimasti rinchiusi senza contatti umani ravvicinati, e poi il significato invece del rapporto con l'altro, quindi è una ricerca molto interessante. Qual è il concetto della restituzione? Chiariamo giusto un attimo, perché sono messe in scene particolari. Chiariamo che cos'è la residenza, la residenza artistica è offrire la possibilità, lo spazio, il tempo, e la possibilità di sbagliare ad artisti giovani, meno giovani, durante il loro percorso, e quindi di provare. Cioè vengono a contatto, una struttura gli apre le porte, e loro vengono in residenza, e possono stare tranquilli, perché chi li ospita non li obbligherà a produrre, non li obbligherà a arrivare a un risultato, la restituzione è semplicemente il mostrare il lavoro fatto, ma nelle forme e nei modi e nei tempi, che desidera chi viene ospitato. L'importante è però che chi viene ospitato, in qualche modo, entri in contatto con la realtà del territorio, con la struttura che ospita, con i cittadini, creando dei legami. Quindi questi gruppi possono venire, in questo caso alcuni vengono da regione, alcuni sono di livello nazionale, altri sono di livello internazionale. L'importante è che circolino nuove idee, nuove forme espressive, e che naturalmente anche, come dire in qualche modo, contaminino chi li ospita. E questo è vero, io in tre anni, veramente ho sentito fortemente questo aspetto, questo aprirsi, come dicevi tu, anche io un po', non dico di essere conservatrice, però finivi per fare sempre le stesse cose, nello stesso modo un po', cioè ti adagi un po' sul conosciuto. E invece questa apertura a queste forme, che poi quasi sempre sono intrecciate, non sono mai solo danza, non sono mai solo teatro, non sono mai solo musica, non sono mai solo sperimentazione, quindi sono delle forme ibride, direi più di performing arts, come si dice, senza fare, poi facciamo come Draghi, che dice, ma basta con questo inglese. Insomma, con queste arti performative, sono veramente, sono degli happening, sono, per esempio, questo Aldo Giannotte, fantastico, che adesso appunto, che verrà in residenza, che ha fatto questa mostra, adesso al Mambo di Bologna, dove ha, lui è un eccellente disegnatore, ma è un performer, ma è un animatore culturale, lui aveva disegnato su questa parete del Museo di Arte Moderna di Bologna, una seghe elettrica, con soscritto in inglese le istruzioni per portarla via. E in effetti, dopo, credo una settimana dell'apertura della mostra, sono arrivati due giovani con la seghe elettrica, e con la quale si sono portati via, si sono portati via l'opera d'arte. A noi partecipareva molto divertente. Ma anche, diciamo, cose più, adesso più al di là di questo aspetto, così, molto, da Bansky, diciamo, avremo ospiti, per esempio, Alessandro Sciarroni, che è un leone d'oro alla carriera per la danza, alla Biennale di Venezia, che quindi farà una, porta il suo nuovo progetto, con sei performer, era un pianoforte, un pianista, si intitola Dream, ed è, naturalmente, con delle, con, questo è il Dream, il titolo di un pezzo, di Cage, ma in realtà, poi, vedremo che le musiche sono anche di Bach, ma anche altre, e ci sarà questa performance, non solo questo, fra l'altro, ecco, cosa mi dimenticavo di dire, i luoghi di queste, ah già, sì, restituzioni e residenze, che sono sempre luoghi particolari. Quest'anno, i primi due gruppi, agiranno in un luogo meraviglioso, che è il Gasometro di Trieste, e che verrà, naturalmente, in qualche modo allestito, perché, appunto, è un luogo, all'interno di un, di un luogo di servizio, diciamo. passiamo un pochettino, se, anche a, a considerare quel luogo, come qualche cosa, dove installarci, è un luogo, affascinantissimo, devo dire, la prima volta che sono stata, mi ha veramente colpito, questa specie di volta, questa luce dalle finestre, queste scale, su questo spazio, che è completamente vuoto, e circolare, è veramente molto interessante, meriterebbe veramente, un, un restauro, una rivalorizzazione. E' un po' il nostro, la nostra Royal Albert Hall, come qualcuno dice, però, io lo trovo. E' utilizzabile anche per, per questi esperimenti, chiamiamoli così, eccetera, per queste... Sì, io purtroppo ho potuto fare solo due, di queste restituzioni dentro, perché, ovviamente non è riscaldato, e quindi evidente, perché non c'è, praticamente nulla, e quindi, naturalmente, anche Alessandro Ciarroni, avrebbe voluto agire, in quello spazio, perché ha visto le foto, se n'era innamorato, ma non è possibile, perché d'inverno è un giro pazzesco, oltre che, appunto, un pezzo en plein air, perché manca un pezzo di soffitto, e quindi, invece, quello andrà alla centrale idrodinamica, che in Portovecchio, che è anche un altro spazio, meraviglioso, che è veramente adattissimo, alle, appunto, ad azioni performative. Fra l'altro, scusa se ti interrompo ancora, voi avete pubblicato, anche in un volume, avete raccolto i primi tre anni di residenze, non se non mi sbaglio. I primi tre anni di residenze, i primi antirani di residenze, con, appunto, la direzione artistica di Marcella Serli, il volume è stato curato da me, e da lei, ma con la grafica meravigliosa, di Roberto Duse, che è un grandissimo, designer triestino, triestino-udinese, poi lui insegna all'Accademia di Udine, di design, ma insomma, roba nostra, ecco, cosa dici tu? Ma, insomma, lui ha ricevuto tanti premi, ha fatto veramente un lavoro bellissimo, io lo trovo graficamente bellissimo, e quindi siamo molto orgogliosi, e l'abbiamo spedito ovunque, perché ci piaceva tanto, e anche ci piaceva moltissimo, il contenuto, le foto, che dimostravano tutto il lavoro fatto, il grande lavoro fatto in questi anni. Tanto poi ricordiamoci che, proprio nel corso di una di queste residenze, adesso, se non mi sbaglio, nel 2019, sì, nel 2019, venne a Trieste anche Giuseppe Sartori, che è proprio, come un artista che caratterizza, se vogliamo, questo tipo di percorso teatrale nuovo, che forse Trieste conosce poco, per tutta una serie di ragioni, che non stiamo qui a sviscerare. Certo, e tra l'altro volevo anche dire, mi stavo dimenticando, che c'è un altro attore che accomuna tutte le residenze artistiche del nostro territorio, che è Roberto Canziani, che, diciamo, è quello che fa un po' la curatela, se vogliamo dire così, di queste residenze artistiche, perché è molto attento, ovviamente, alle, come dire, alle istanze più nuove, più interessanti del panorama italiano, e quindi anche, in qualche modo, inquadra, dal punto di vista teorico, questi aspetti. Però, non diamo l'impressione che sia una cosa intellettuale, di rispetto, io, come dico, io, per esempio, sono una grande amante dell'arte contemporanea, e l'approccio, quello più diretto, quello più dei bambini, ecco, questo, è quello che va privilegiato in tutti questi aspetti, bisogna godere della, non sempre c'è qualcosa da capire, ma, ecco, questo è uno delle cose, assolutamente. Questa è una delle cose che io sottolineo tutte le volte che posso farlo, perché, in realtà, l'arte contemporanea è quella più, come posso dire, di più facile, non interpretazione, ma di più facile interpretazione, cioè, mi piace, non mi piace, non devi conoscere i codici. No, però, devi avere la sensibilità di lasciarti andare, quindi, come dire, è una forma di apertura mentale, cioè, non cerco, intanto non cerco il bello estetico, Cioè, ci può essere, o non essere, cerco un'emozione, quello sì, o cerco un'emozione che può essere o intellettiva, nel senso che, qualche cosa mi viene detto in una forma che non conoscevo, quindi qualcosa di nuovo mi viene detto in una forma nuova, che può essere bella, disturbante, perché anche il disturbante è un aspetto della nostra vita che forse qualche volta ci colpisce di più che, come dire, l'ammirazione di fronte a qualcosa di molto ben eseguito. Naturalmente, ci possono essere e poi un'altra cosa ancora è l'ironia, ecco, è una cosa che caratterizza moltissimo tutta l'arte contemporanea e queste arti performative e anche nel teatro comincia a insinuarsi tanta ironia, che non è la risata, che non è la comicità, ma che è in qualche modo un, forse perché non abbiamo più delle certezze così o delle ideologie così fondanti che ci permettono di rimanere completamente seri e quindi anche di fronte alla cosa più, come dire, accademicamente così costruita, un sorriso può sempre darci un'idea ancora arricchente. Sottoscrivo dalla prima all'ultima parola. Volevo chiederti invece come vi regolate, per esempio qui torno un po' bruscamente a questioni come dire molto pratiche, come vi regolate per esempio con gli spettacoli che erano annunciati, le produzioni proprie immagino che riuscite a recuperarle perché ci sono la produzione ma tipo gli spettacoli ospiti magari qualcuno può anche non riprendere eccetera ma noi naturalmente chi anche perché immagino che starete già lavorando per la stagione successiva certamente e allora chi ha pagato di biglietti chi ha pagato per prendere un abbonamento esaurirà come dire tutti i suoi cioè entrerà praticamente se non gratis quasi perché noi abbiamo fatto solo il primo spettacolo quindi evidentemente il bonus diciamo così per entrare a vedere una serie di spettacoli c'è nessuno perderà ecco nessuno perderà quello che ha per il quale ha pagato forse non saranno tutti esattamente gli spettacoli gli stessi identici spettacoli ah però lo dico guanciale ci sarà lo dico perché così smettono di chiedercelo smettono di telefonarci quindi sappiate rassicuratevi abbiamo la data abbiamo la produzione ce l'ha confermato verrà dicembre e quindi c'è ecco c'è da dire che tu hai citato Lino Guanciale una delle persone più gentili smolto e come dire mi viene in termine inglese del quale chiedo scusa committed che possano esserci otro assolutamente è anche un innamorato di Trieste quindi insomma da cittadina ecco mi sento anche orgogliosa e quindi era un appuntamento molto atteso e quindi ci hanno telefonato tante volte ci hanno scritto abbiamo anche rimborsato i biglietti ma verano insomma però ci hanno chiesto poi tra l'altro ricordiamoci anche questo perché sempre di più si stanno affermando adesso a teatro attori che magari qualcuno potrebbe ritenere di provenienza televisiva Guanciale è uno dei casi di attore che si è formato a teatro sono andate a vedere la sua carriera è una carriera a teatro ma come tantissimi altri come non so Montanari Marchionni eccetera cioè e la come dire la loro statura teatrale si vede subito per cui non è come succedeva purtroppo una quindicina di anni fa gli anni 90 negli anni 90 quello era qui siamo in presenza di gente che ha una grossissima per esempio dico un altro nome che avremo in stagione così ti do qualche anticipazione per esempio Lodo Guenzi che si è affermato come cantante in realtà lui è appunto abbiamo detto anche in altre trasmissioni che lui si è formato da Nicopepi di Udine a una cote teatrale ma ce ne sono tanti altri di attori anche se fanno fiction anche se fanno serie su Netflix ormai per fortuna diciamo la Rai e gli altri produttori diciamo prendono bravi attori a lavorare tra l'altro poi è anche vero che anche altri attori un po' più avanti con gli anni diciamo come per esempio penso a un altro molto molto cordiale come Corrado Tedeschi lo stesso Marco Columbro sono attori di solida base sono scavalca montagne scavalca montagne questi sono attori che hanno fatto tantissimo in teatro poi noi abbiamo questa divisione così abbiamo tante volte detto molto netta in Italia tra quello che è un teatro più leggero e quello che è un teatro meno leggero ma voglio dire che poi non è vero il Corrado Tedeschi adesso fa una coscienza di Zeno e fa una commedia francese voglio dire se uno è un attore di talento è soltanto nostra questa distinzione purtroppo basta andare forse neanche in Inghilterra forse basta andare in Austria per chi conosce il tedesco e nota tutto ciò o siamo già alla fine e adesso non sbilanciarti perché io sono più scaramantico della gente di teatro per cui figuriamoci se mi offendo se qualcuno lo spettacolo che riapre ci state già lavorando perché per forza stiamo provando in realtà uno spettacolo che sarà dopo il dialetale iniziale perché noi come sempre posso svelare che sarà full in questa alternanza questa alternanza alternanza diciamo full in calabrese o due volte calabrese o full in sì perché noi ci affezioniamo noi vogliamo bene i nostri attori sono degli amici e scrivono per noi perché noi li commissioniamo adesso c'è questo rinnovato interesse per il dialetto poi a noi interessa anche voglio dire utilizzare il dialetto in altre forme o anche come dire scavare diciamo nella storia di Trieste in maniera più profondita presenteremo per esempio al castello di San Giusto tempo d'attesa di Pietro Spirito e Elche Burul che per esempio racconta un aspetto molto poco noto che è quello del campo profughi padriciano non quello degli esuli ma quello degli anni 70 che quindi è un aspetto molto interessante che abbiamo in realtà anche registrato per la RAI andrà in onda due puntate fra poco nella nostra RAI regionale e poi anche metteremo in scena invece proprio scenicamente quindi insomma si ritorna dai si ritorna si ritorna a lavorare noi siamo felici tra l'altro volevo salutare ancora Calabrese che tra l'altro adesso era impegnato a fiume era impegnato a fiume con una nostra scoperta che è Anselmo con Anselmo che salutiamo anche lui che potrete rivedere a San Giusto quest'estate quindi anzi venite assolutamente e quindi Giulio VII che è il direttore del dramma italiano di fiume è venuto a vedere il nostro spettacolo si è innamorato di questi due uno della regia naturalmente l'altro era in scena e quindi ha deciso di fare uno spettacolo con loro due e io concordo pienamente l'espatrio e comunque Calabrese stia attento perché io ho dei filmati allora grazie Alive Mabilino grazie a voi buon lavoro a tutti quanti poi ci rivediamo insomma adesso sì dopo la pubblicità come vi dicevo continua e siamo molto contenti anche del successo che discuote questo appuntamento all'interno di Trieste in diretta continua Trieste Trieste Arte vi anticipo già che la prossima puntata ci occuperemo di Miela Reina quindi anche lì un nome un nome importante ho già sforato di un minuto adesso mi cazziano probabilmente grazie a tutti dopo la pubblicità Trieste Arte Grazie a tutti